Bello a tutti ragazzi e oggi è un nuovo video di Rexhold siamo ritornati in un nuovo bellissimo video di Brawl vi voglio portare Clash un altro episodio di faccio le tattiche di TH10 su computer e invece non ho potuto perchè è proprio iniziata l'elga a ieri è iniziata l'elga a ieri quindi vi porto un video di Brawl Stars oggi non ho la maglina a Rexhold perchè è a lavare è un po' soncio e detto questo partiamo col con il barbaro più barbaro d'Italia cioè con Bull io direi che inizierai subito con la singolo lo start ci mette duore fa lentissimo che è sempre al solito fa due mina al colpo fa un po' schifo il Bull all'una però beh mi fa muovere ok grazie bombardino 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 voleva fare il fulbino ma invece l'ha presa nella capoccia ok andiamo piano piano nel vero senso della parola nelle casse ok ho fatto una gran cavolata però almeno ci prendiamo tutti i power up aspettiamo usciamo sto Bull perchè potrebbe essere pericoloso scontrarsi da lui e siamo già in finale come nel primo il primo vs Bull lei vincerà no via questo mi fa la ulti muori ok grazie ma perché ma sembrano dei bot cioè mi spacchiano le casse e se ne vanno ok cosa vuoi fare subito il primo ah tu ci do la ulti e pam cornuto olè vittoria bolle iniziamo il verso di Bull ok andiamo a giocarci una partita in double vediamo chi si trova vediamo se si riuscirà a vincere anche in double prendi i cubi di energia da casa e nemici per diventare più fuori ma questo non ha capito che gioco da un bel pezzo la sopravvivenza comunque ci abbiamo in squadra Razat 2007 Razato 2007 ok questa era una battuta squalichissima lo so oh muori no 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 scherzavo non muori cioè muori ma da un altro mi riprendo io il power up boom ciao muoi eh si va benissimo colta prendi il power up bravo e beh se ne stanno nascosti eeeh ma ciao ma come va la vita no 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 non va ben niente bene ma col ma che cazzo sta a fare colt boom incornuti tutti oh no non mi fa più muore il personaggio no colt colt no colt mi avete ucciso colt è un po' un abetto però sto colt ok sta nascendo la compagna dobbiamo indicare colt ragazzi abbiamo 15 power up però oh cosa fai cosa fai no 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 non riusciti colt non riusciti colt siiii cosa pensa di fare quella dei funny moments siamo uno con 19 power up contro la Shelly vince la Shelly charge questo poi lo spara e scappa vai 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 quindi cosa fai mi dispiace ma sei morto sei letteralmente esploso se ne parte il bombardino no colt non si può far uccidere da bombardino vieni qui oh questo bombardino sta maltrattando il mio colt si vabbè cosa ho detto sto bombardino sta maltrattando il mio colt cosa ho detto vabbè mettiamo pronto vediamo se il colt ah no il colt se n'è andato c'è un'altra partita qui e poi si va su footbrawl guarda bella la canzoncina dei ball stars c'è abbiamo quel po' uscito che sinceramente posho è uno dei brawler più scarsi di braw stars e si deve di tutto però attenzione il nostro posho sembra giocarcela bene è un po' scarsetto posho perchè fa pochissimo danno ma dai ok addio ci abbiamo contro oh fermo calma ti devi calmare ti devi calmare e si vince di nuovo ragazzi mamma mia oggi siamo particolarmente in forma è vero che siamo al grado 5 però io ora direi di andare di andare su footbrawl sono un po' stanchino perchè sono alle 10 e 34 sto registrando alle 10 e 34 però vabbè potenziamo si vabbè non so più l'italiano non posso più parlare potenziamo il nostro bull re barbaro e andiamo su footbrawl ok ah sono morti tutti no via è la donna la passa filtrante alla rosa ok vedo in porta capito no non ci morite cosa sta succedendo no 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 parata via mori no spazzala via jessy fai jekyll fai jessy no se jessy fa goal forse ora jekyll avrei preso con la ulti il posh e l'ha fatto è goal no non è goal mi sa no vabbè mi sto nascosto qui pem pem gg e si fa goal non so neanche come vai ok no 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 fermi tutti attenzione prenda la palla si io volentissimo raga tenta il tiro goal e anche qui si segna cioè si segna hanno segnato i nostri non pagni un'altra partita ok batteria ma smettano di sparare il mio colt no bombardino ok vai a difendere la porta ho spaccato il mio muro vabbè via no 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 uh lo scansa vai bombardino tiro le tue granate quel colt è in trappola io non riesco a seguire la palla perché sto troppo lento a causa del lag e vabbè e vabbè pam pam 2009 no no pam mi ha tirato una cornata nel muso oh oh vattene via via ah mi so ok 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 pam 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 e si segna un'altra volta mamma mia oh i miei compagni non sono affatto male finora i nostri compagni non sono stati affatto male facciamo l'ultimo partita nel ground sale poi devi concludere cosa che cattura schermi perché mi sta a mio oh vabbè cerchiamo noi oh ahia oh basta pocio no oh 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 raga non mi fa muovere il personale non mi fa muovere il personale oh legend legendarney assegnato chi non vuole fare un profilo di fortnite e chiamarsi legendarney oh mio dio i miei 11 cps si fanno sentire e se segnato una cosa un'altra volta fatte tutti i miei compagni i miei 10 cps si fanno sentire i miei 10 cps si fanno sentire i miei 10 cps si fanno sentire i miei 11 cps si fanno sentire i miei 11 cps Capito se mi devi muovere solo con Brawl Pass Ah detto questo ragazzi Io da RexOder è tutto Vi ricordo di commentare ogni volta con un'asta che muove gigante Di iscrivervi al canale Di attivare la campanellina Per non perdervi nessuna notifica Di nessun video Di iscrivervi ovviamente E di lasciare like e di condividere Con i vostri amici Perché gli potrebbero interessare Questi gameplay di Bluestars a caso Oppure Che ne so Le tattiche di Lash of Clans O la mia avventura che sto vivendo Praticamente qui sul canale Le mie serie Nel questo io vi saluto E ciao ragazzi